Buongiorno, io sono la dottoressa Scaramogna, una pediatra della ULS5 e noi siamo qui, dico noi perché mi riferisco anche alle mie colleghe e alle graditissime ospiti che sono mamme e che hanno già partorito o in procinto di partorire, per festeggiare questa magnifica giornata che è la giornata dedicata all'allattamento al seno. L'allattamento al seno sapete è una condizione molto importante per la salute, per preservare la salute dei bambini, è altrettanto importante nella preservazione della salute delle mamme e naturalmente della società in generale. Buongiorno a tutti, sono Elena Crepaldi, sono un'ostetrica del consultorio familiare di Adria, insieme alle colleghe partecipiamo a questa giornata dedicata nella settimana dell'allattamento al seno e vogliamo dirvi che le ostetriche sono presenti sia a livello ospedaliero che a livello territoriale per supportare le future mamme e le neomamme in questo particolare periodo di cambiamento e di nuovi equilibri della loro vita. Quindi vi aspettiamo a livello consultoriale, offriamo servizi sia relativi alla gravidanza che relativi all'allattamento al postpartum e siamo appunto presenti, vi aspettiamo all'interno dei nostri ambulatori per conoscerci e per aiutarvi laddove possibile. Grazie a tutti.